Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Un anno a Palazzo Chigi vale una legislatura intera. La premier Giorgia Meloni è stata ospite di Un giorno da pecora su Radio 1 nel giorno del suo 47esimo compleanno. Ai conduttori che le domandavano se sarà ancora a Palazzo Chigi quando ne compirà 50, ha risposto, sarà a gennaio 2027. Allora, per forza, ci tocca. Non lo so se la Schlein mi ha fatto gli auguri, me li ha fatti Giuseppe Conte, il suo è stato tra i primi che ho letto. Quanto ad altri mittenti dei messaggi di auguri, Meloni risponde su quelli che sono riuscita a vedere, come la presidente della commissione UE Ursula von der Leyen e il premier britannico Rishi Sunak. Al momento ce ne sono 400 in evasi, ed io, che ho la tradizione di rispondere a tutti, confesso che non so se ce la farò. Grazie a tutti. Spero di riuscire a rispondere, semmai verso marzo-aprile. Vi voglio bene, grazie, sul regalo che vorrebbe ricevere, Meloni ha rivelato, dormire. La premier ha poi postato un video dal suo ufficio a Palazzo Chigi, grazie per gli auguri di compleanno che mi avete mandato privatamente e con i post sui social. Davvero tanto incoraggiamento del quale farò tesoro. Siete la mia forza. Vi voglio bene, tanti auguri alla Meloni. Donna forte e volitiva.